La procura di Trani ha aperto un'indagine conoscitiva, ovvero senza ipotesi di reato, a seguito dell'uscita dell'editoriale di Maurizio Belpietro sul numero odierno di Libero. Nell'articolo, infatti, il direttore del Quotidiano racconta ai lettori due fatti di cui è venuto a conoscenza, fatti tutti da verificare. Il primo dei due sarebbe ambientato in Puglia, dove, in base ad una testimonianza di una persona apparentemente tranquilla, si starebbe organizzando di colpire il presidente della Camera, Gianfranco Fini, durante una sua visita ufficiale ad Andria. Qui sarebbe stato assoldato con 200.000 euro un manovale della criminalità locale per colpire la terza carica dello Stato, ma il prezzo comprenderebbe anche il silenzio sul mandante e l'impegno ad attribuire la pianificazione dell'agguato ad ambienti vicini a Berlusconi, così da far ricadere la colpa su di lui. L'operazione, racconta ancora Belpietro, dovrebbe scattare in primavera in prossimità delle elezioni, così da condizionare il risultato. Affermazioni queste che, secondo il direttore di Libero, destano preoccupazioni. Il procuratore di Trani, Carlo Maria Capristo, deciderà nelle prossime ore come procedere.